Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram o soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questa storia come al solito me l'ha consigliata qualcuna o qualcuno di voi nei Google Docs. In realtà mi avete scritto solo il nome di una vittima, non so se sono io ad aver trovato un caso di cui nessuno parla, ma vi assicuro che all'inizio ero convinta che questo fosse un caso irrisolto. E invece no, è risoltissimo. E abbiamo a che fare, a mio avviso, con un probabile serial che o è stato fermato in tempo, oppure ha colpito altre volte, ma non gli hanno attribuito altri omicidi. Ma come al solito andiamo con ordine, tutto inizia mercoledì 5 novembre 2008. Siamo ad Harrisonville a 50 km a sud di Kansas City, in Missouri. Ci troviamo più precisamente a casa di Jeff e di sua moglie, Cara Joe Roberts. L'uomo sta tornando a casa da lavoro come tutti i giorni della settimana, tranne il weekend. Sono le 17.30. Così Jeff arriva a casa, parcheggia la macchina nel vialetto, ma ancora prima di entrare in casa si rende conto che c'è qualcosa che non va. La porta d'entrata è aperta. È strano che Cara Joe si sia dimenticata di chiudere la porta. Ci tiene molto la sicurezza della sua famiglia e a quella di loro figlio, che ha solo due anni. Fortunatamente il piccolo è con la babysitter. Cara Joe da poco tempo è stata licenziata. Lavorava presso una compagnia di assicurazioni. Quindi quando Jeff entra in casa, inizia a chiamare sua moglie, senza ottenere risposta. Poi si rende conto di sentire un rumore che proviene dal piano di sopra. Quella è acqua. Acqua che scorre. Cara Joe si sta forse facendo il bagno? E dunque non l'ha sentito? Mentre si dirige al piano di sopra, Jeff continua a chiamare Cara Joe e continua a non ricevere risposta. Così l'uomo prende coraggio, va verso il bagno e apre la porta. Trovando sua moglie che giace nella vasca piena d'acqua, ormai sfumata di rosso. Jeff crede che sua moglie sia scivolata nella vasca. Quindi afferra il telefono e chiama velocemente la polizia, che quindi riceve una chiamata d'emergenza. Jeff dice al centralino, La polizia corre sul luogo del delitto, ma ormai è troppo tardi. Appena gli agenti arrivano sulla scena del crimine, chiamano un'ambulanza. E il paramedico conferma che Cara Joe Roberts, la vittima, è senza vita. Così vengono chiamati anche i detective della omicidi. I detective arrivano sulla scena del crimine, entrano in casa, salgono in bagno e osservano il corpo di Cara Joe. Ha una ferita sulla nuca. Le domande sono parecchie. Ha avuto un incidente? Si è suicidata? È stata uccisa? A Harrisonville non avvengono molti crimini violenti, ma non possono certo escludere un omicidio. Per sapere qualcosa di più su Cara Joe, i detective interrogano suo marito Jeff. Cara Joe e Jeff erano sposati da quattro anni e avevano un bambino di due anni. Cara Joe era una madre amorevole e insomma amava tantissimo suo figlio. Lei e Jeff si erano incontrati per l'ultima volta all'ora di pranzo sul posto di lavoro di Jeff. L'uomo è coproprietario di un'officina che si occupa anche di rivestimenti, dei cassoni, dei pick-up. Jeff racconta che verso le undici e mezza circa Cara Joe era passata in ufficina, in negozio e si era messa al computer perché doveva fare alcune ricerche. I due poi successivamente avevano pranzato insieme e nel pomeriggio Cara Joe aveva detto a Jeff che avrebbe passato la giornata ad assemblare un nuovo lettino a forma di automobile per il loro figlio. Poi sarebbe andata a prenderlo dalla babysitter per fargli una sorpresa. Cara Joe aveva chiamato Jeff alle 14.30 e quella era stata l'ultima volta in cui Jeff aveva parlato con sua moglie. Qualche ora dopo Roger, il padre di Cara Joe, era passato da casa sua per lasciarle un regalo. Aveva suonato ma lei non aveva aperto la porta. Così il padre di Cara Joe aveva chiamato Jeffrey per chiedergli se era il corrente di dove fosse sua figlia. Era a questo punto che Jeff era tornato a casa da lavoro, trovando sua moglie riversa nella vasca da bagno senza vita. I detective a questo punto svuotano la vasca e notano sul corpo tre ferite. Inoltre, nella vasca sotto il suo corpo trovano un bossolo di una pistola calibro 9. Sul pavimento tra il bagno e il corridoio trovano delle fascette stringi cavo. Questo vuol dire che Cara Joe, prima di essere uccisa, potrebbe essere stata legata. A questo punto le perplessità di detective aumentano in maniera considerevole. Se la vittima è stata legata, è impossibile che si sia suicidata o che abbia avuto un incidente. Gli investigatori a questo punto si spostano nella camera da letto e notano che le lenzuole e la coperta erano state tolte dal letto e lasciate sul pavimento. Sotto al letto trovano del nastro adesivo. La porta d'entrata, come già vi ho detto, era aperta. Ma non ci sono segni di effrazione. Quindi forse il suo assassino era entrato in casa con lei. La tv è in soggiorno e quella stanza non è stata saccheggiata. Nel soggiorno è presente la borsa di Cara Joe, i detective ne controllano il contenuto, trovano il suo portafoglio, lo aprono e ci trovano dentro dei contanti. La pista della rapina quindi viene ben presto accantonata. Quale ladro non ruberebbe una televisione dei contanti che ha letteralmente sotto il naso? I detective ipotizzano che il colpevole potrebbe essere qualcuno che conosceva Cara Joe o qualcuno che le era molto vicino. Successivamente i detective parlano con il padre di Cara Joe per capire cosa avesse visto. L'uomo dice che era passato a casa di sua figlia perché lei gli aveva chiesto di pranzare insieme dopo il lavoro. Roger però era impegnato e le aveva quindi detto che avrebbe dovuto saltare la pausa pranzo per terminare il prima possibile il suo lavoro. Di conseguenza alla fine Cara Joe era andata a pranzo con suo marito. Inoltre Roger è un cacciatore e spesso le regala della carne. Ecco perché era passato da casa sua dopo il lavoro, le voleva lasciare una borsa frigo piena di carne. Aveva suonato il campanello ma non aveva ricevuto risposta. Quindi aveva lasciato la borsa frigo davanti al garage per poi chiamare Jeff. I detective a questo punto chiedono a Roger se possiede delle armi visto che è un cacciatore. Roger annuisce e i detective quindi gli chiedono se per caso possiede anche delle pistole. Roger a questo punto esclama non crederete mica che io sia il colpevole. I detective gli spiegano che quelli sono solo controlli di routine. Così Roger fa vedere ai detective la sua pistola che è una calibro 9. Il giorno dopo il delitto di Caraggio Roberts la pistola di suo padre Roger viene mandata in laboratorio. I detective nel frattempo interrogano i vicini per sapere se hanno visto lui o qualcun altro in casa. I vicini, tutti nessuno escluso, descrivono Jeff e Caraggio come due brave persone. Hanno molti amici quindi sono soliti organizzare molte feste a casa loro. I detective a questo punto vanno ad interrogare gli amici di Jeff e di Caraggio e scoprono che girano delle voci secondo le quali il rapporto tra Caraggio e Jeff era molto libero. Alcune voci sono arrivate a suggerire che i due avessero un matrimonio aperto. Queste però restano delle voci, nessuno sa la verità e gli investigatori non trovano prove a sostegno di questa informazione. Ma una vicina qualcosa di meglio di un semplice pettegolezzo da condividere con la polizia. La donna dice di aver visto qualcosa o meglio. Qualcuno stava portando fuori la spazzatura e aveva notato un uomo passare davanti casa di Caraggio e Jeff. Quell'uomo zoppicava e aveva un cappellino che gli copriva la faccia. I detective chiedono a questa vicina di casa se è disposta a fornire informazioni per fare un identikit dell'uomo che aveva visto e quest'ultima non si tira assolutamente indietro. Così la polizia chiama un disegnatore che arriva da Kansas City. Il disegnatore fa l'identikit di un uomo bianco alto 1,70 m con in testa un cappellino da baseball. Mentre l'identikit viene mandato a Emivia gli investigatori si dirigono al laboratorio per avere i risultati dell'autopsia su Caraggio. I risultati della balistica evidenzano che Caraggio è stata uccisa da una calibra 9 Smith & Wesson. Il proiettile è entrato alla base del cranio ed è finito sulla sua coscia sinistra. Roger, il padre di Caraggio, possiede una calibro 9 semiautomatica e non coincide con la pistola che è stata utilizzata per l'omicidio. Così Roger, il padre di Caraggio, esce dall'indagine. Ma questa non è l'unica informazione che il rapporto dell'autopsia rivela. Infatti sul corpo di Caraggio vengono trovate due serie di liquido seminale. Uno appartiene a Jeff Roberts, il marito di Caraggio. L'altro, però, appartiene ad una persona sconosciuta. Questo vuol dire che la persona sconosciuta aveva avuto rapporti intimi con la vittima in tempi più recenti rispetto a quelli avuti con suo marito che risalivano alla notte precedente. Il DNA sconosciuto potrebbe effettivamente appartenere all'uomo che, secondo la vicina, è passato davanti alla casa della coppia nel pomeriggio del giorno del delitto di Caraggio. Questo DNA sconosciuto viene inserito nei database internazionali e locali, ma non dà alcun riscontro. Questo vuol dire che la persona a cui appartiene quel DNA probabilmente non ha mai avuto problemi con la legge. La presenza del seme di un altro uomo sul corpo di Caraggio insieme alle voci sul matrimonio aperto conducono gli investigatori a un nuovo potenziale sospettato, Jeff Roberts, il marito di Caraggio. Gli investigatori dunque comunicano al marito che sua moglie ha avuto rapporti con un altro uomo. Gli dicono quindi che sul corpo di Caraggio hanno trovato due campioni di seme diversi. Jeff però non reagisce a questa notizia come se avesse avuto un matrimonio aperto con Caraggio. Anzi, tutt'altro. Jeff non capisce, si agita, chiede più volte agli investigatori a chi appartenga il secondo campione di seme. Ma gli investigatori gli spiegano che il DNA non ha dato alcun riscontro, quindi non lo sanno. Jeff ripete agli investigatori almeno 200 volte che lui e sua moglie non si sono mai traditi. Nemmeno una volta, nemmeno per sbaglio. I detective in ogni caso dubitano di lui, l'uomo continua ad essere un sospettato. Ma non ci sono prove contro di lui per arrestarlo. L'unica speranza per la polizia è l'identikit divulgato dai media. Ci sono cartelli ovunque con quell'identikit. Sperano che qualcuno chiamerà per aiutarli a trovare altre piste. I detective a questo punto attivano un numero verde e seguono diverse piste che però si rivelano sempre vicoli ciechi. Le indagini a questo punto si bloccano e rimangono in stallo per ben due anni. Fino a quando succede qualcosa dall'altra parte della città, esattamente a 50 chilometri di distanza. Page user venerdì 29 ottobre 2010 passa l'intera serata a cercare di contattare sua madre. La 75enne Nina Whitney. Sono solite sentirsi tutti i giorni ed è strano che la donna non risponda al telefono. Nina è adorata da tutti, ma proprio da tutti. La chiamano la donna delle rane perché le colleziona. Qualsiasi cosa abbia la forma di una rana, lei ce l'ha in casa. Anna collezionare porta oggetti a forma di rana, tazze a forma di rana, gadget a forma di rana, soprammobili a forma di rana. La collezione è l'unico eccesso che Nina si concede dopo una vita di fatiche. È una donna che ama risparmiare, vive da sola, ma se la cava piuttosto bene dopo tutti gli anni di duro lavoro. Page quella sera prova a chiamare sua madre per tre volte, ma sa che sua madre è solita rispondere alle chiamate, specialmente alle sue chiamate. Quindi è sicura che sia successo qualcosa, sa che c'è qualcosa che non va. Page, dopo quella terza chiamata, si mette a pensare e arriva ad una sola conclusione. Sua madre è morta e l'unico motivo che le viene in mente è per cui non ha risposto al telefono. La donna a questo punto esce da casa sua e si precipita in quella di sua madre per dare un'occhiata. Sono circa le otto di sera, entra in casa, chiama sua madre ma non ottiene risposta. È tutto buio e girando per casa nota che c'è la porta del seminterrato aperta. Page quindi va verso il seminterrato, accende la luce e trova sua madre. È riversa a terra, senza vita. Chiama dunque le forze dell'ordine che accorrono sul posto. Nina ha ferite da taglio multiple sulla parte posteriore e anteriore del corpo. Questo vuol dire che è stata accoltellata. Page dice ai detective che forse è caduta semplicemente dalle scale del seminterrato. Poi aggiunge qualcosa che fa drizzare le antennine dei detective. La donna infatti spiega che mentre stava aspettando il loro arrivo, si era resa conto di un rumore che proveniva dal piano di sopra. Sembrava ci fosse un rubinetto aperto. Quindi era salita al piano di sopra, era entrata in bagno e in effetti aveva trovato i rubinetti della vasca aperti al massimo. La somiglianza con il modo in cui Jeff Roberts aveva trovato il corpo di sua moglie è inquietante. Non c'è alcun segno di scasso il che porta gli investigatori a credere che Nina Whitney, ossia la madre di Page, conoscesse il suo aggressore. Ma apparentemente quella donna non aveva nemici ed era difficile che qualcuno l'avesse presa di mira. Per quale motivo poi? A questo punto gli investigatori entrano in camera da letto dove ad attenderli c'è una bruttissima situazione. Gli investigatori ahimè trovano le prove di una possibile aggressione intima. Anche dalla casa di Nina Whitney viene raccolto il DNA dell'aggressore nella speranza che l'assassino abbia lasciato effettivamente qualche traccia. Viste le similitudini con il caso Roberts i detettivi il giorno seguente perlustrano l'area attorno a casa di Nina e ovviamente interrogano anche i vicini chiedono loro se hanno per caso visto qualcosa di strano. Un uomo dice che effettivamente stava facendo una corsa quando ha notato un tizio entrare in una jeep scura. Quel tizio quell'uomo zoppicava. Un dettaglio che gli investigatori avevano già sentito nel caso di Carajo Roberts. Di nuovo i detective chiedono a questo uomo se può fornire delle informazioni per un identikit e l'uomo ha consente senza alcun problema. I detective sono sicuri di essere vicini al loro uomo ma quando vedono il secondo identikit si rendono conto che non assomiglia a quello dell'assassino di Carajo. Poi ecco che arrivano i risultati del test del DNA prelevato a casa di Nina Whitney ed emerge che anche sul suo corpo c'è quello stesso DNA sconosciuto. Entrambe le donne erano state aggredite dallo stesso uomo e quell'uomo di certo non è Jeff Roberts il marito di Carajo. La polizia a questo punto chiama Paige per darle la notizia ovvero le dicono che hanno rilevato del DNA sulla camicia di sua madre che combaciava con un caso il risolto del 2008 avvenuto a Derrysonville ossia per l'appunto il caso di Carajo Roberts il legame tra i due casi conferma la più grande paura della polizia c'è un probabile serial che punta le donne indifese in casa propria nonostante Carajo non abbia alcuna connessione con Nina Whitney Paige non riesce a credere che l'assassino scelga le sue vittime casualmente secondo lei è chiaro che chiunque avesse ucciso sua madre conosceva la sua casa sapeva perfettamente dove si trovava il bagno e la sua camera da letto perseguitata dalla morte di sua madre Paige è convinta che l'assassino abbia incontrato Nina Whitney in uno dei suoi tanti negozi preferiti di antiquariato Paige quindi prende diversi giorni di ferie e guida per tutta la città scrivendo gli indirizzi di ogni negozio dell'antiquariato ogni negozio dell'usato e ogni mercatino che sua madre frequentava poi dà questa lista ai detective Paige però ahimè non trova nulla così il tempo passa i mesi si susseguono arriva maggio e Paige sta guidando per andare a casa di sua madre per impacchettare le sue cose quando un cartello attira la sua attenzione è uno dei tanti cartelli con l'identikit dell'assassino di sua madre lo guarda attentamente e si rende conto che lei quell'uomo pensa di sapere chi sia Paige quindi non ha dubbi si precipita dai detective e dice loro che devono indagare su un uomo di nome Jeffrey Moreland ossia il suo ex fidanzato Paige e Jeffrey Moreland si erano lasciati più di dieci anni prima ma la loro relazione era stata davvero molto intensa si erano conosciuti alla lezione di diritto penale Jeffrey era stato un agente di polizia in Iowa per qualche anno poi si era licenziato e si era trasferito a Warrensburg nel Missouri per studiare dopo la laurea era diventato agente di polizia a Grandview Jeffrey era molto intelligente dolce divertente ma nonostante l'inizio felice il loro rapporto si era incrinato quando l'uomo era diventato poliziotto a Grandview ripeteva tutti quanto fosse stancante difficile e duro il suo lavoro il punto è che anche Paige era stanca perché doveva occuparsi quotidianamente di bambini maltrattati e abbandonati facendo l'assistente sociale Paige avrebbe voluto lasciare Jeffrey ma passava molto tempo a casa di sua madre e quest'ultima adorava quell'uomo quindi aveva provato a far funzionare le cose i due comunque dopo poco tempo si erano lasciati ugualmente e Nina per molto tempo aveva ripetuto a sua figlia Paige che avrebbe dovuto sposare quell'uomo non lasciarlo anche dopo la rottura in effetti Nina era rimasta legata a lui Jeffrey infatti passava spesso a trovarla e a lei faceva un gran piacere questo vuol dire che Jeffrey conosce le strade del quartiere sa qual è la disposizione della casa della madre di Paige inoltre ultima cosa ma non per importanza Nina lo avrebbe fatto entrare perché lo adorava finalmente per Paige le cose iniziano ad avere un senso dopo la fine della storia con Paige Jeffrey era stato costretto ad abbandonare la sua carriera a causa del Parkinson Paige fornisce ai detective anche l'indirizzo di Jeffrey abita al 2904 di Twin Pines Drive ad Harrisonville città in cui era stata uccisa Caragio gli investigatori a questo punto a distanza di due anni tornano da Jeff Roberts il marito della povera Caragio per fargli vedere l'identikit Jeff non conosce la persona dell'identikit ma quando i detective gli mostrano la foto di Jeffrey in Moreland Jeff si illumina dicendo ma certo che lo conosco e Jeffrey è venuto anche a qualche festa del quartiere ultimamente in effetti il Jeffrey Moreland che conosce lui ha costruito una bella casa in un bel quartiere ad Harrisonville e vive lì con sua moglie da anni non c'è ragione di sospettare di qualcuno di così ben voluto come Jeffrey quando la polizia decide di andare a parlare con Jeffrey Moreland il 16 giugno sembra che lui sia stato già avvisato in qualche modo del loro arrivo i detective gli chiedono se può fornire un campione di DNA per un caso su cui stanno indagando Jeffrey era un collega apprezzato ma da quando è stato costretto a ritirarsi per via del morbo di Parkinson il suo atteggiamento è cambiato drasticamente diventando freddo e rancoroso per l'investigatore è difficile affermare se Jeffrey zoppichi o meno ma soprattutto l'uomo sembra avere davvero molta fretta dice agli investigatori che è molto impegnato e che ora non può proprio dar loro retta una domanda però nasce spontanea se Jeffrey è innocente perché non collaborare con le forze dell'ordine perché non fornire il proprio DNA qualche giorno dopo però Jeffrey ci ripensa e contatta il suo vecchio compagno del dipartimento di polizia di Granview per incontrarlo in un parcheggio gli dice che deve consegnare un campione del suo DNA per un caso su cui stanno indagando quindi gli passa un cotton fioc già sigillato dicendogli guarda non è niente di che ma è probabile che tra qualche giorno te lo chiedano tu consegnalo e siamo a posto il suo vecchio compagno non ha alcun problema a fare questo favore al suo ex collega il DNA di Jeffrey Morland è la migliore chance per gli investigatori di collegare il sospettato agli omicidi di Caraggio Roberts e Nina Whitney peccato che il DNA di Jeffrey Morland non corrisponde col DNA trovato sui corpi di Caraggio Roberts e Nina Whitney le indagini a questo punto si bloccano di nuovo ma passano solo due settimane quando una possibile terza vittima una donna di cui non conosco il nome perché credo che non sia stato divulgato e che chiameremo Susan arriva all'ospedale di Harrisonville a seguito di un'aggressione intima quando il detective arriva in ospedale Susan gli spiega come è stata aggredita stava camminando per tornare a casa a Harrisonville e faceva molto caldo quindi un uomo di mezza età con i capelli corti a bordo di una jeep nera si era fermato offrendole un passaggio la ragazza inizialmente aveva rifiutato ma l'uomo aveva insistito e in effetti faceva molto caldo quel giorno quindi Susan alla fine aveva accettato il passaggio appena era salita in macchina aveva notato nel vano portaoggetti un distintivo lui le aveva detto che lavorava per il governo quindi Susan si era tranquillizzata ad un certo punto Susan ovviamente aveva chiesto all'uomo di accostare dicendo guarda quella è casa mia ma l'uomo non aveva assolutamente fermato la macchina invece aveva guidato per tutta la città fino ad arrivare a casa sua era entrato in garage e aveva chiuso il portone quindi Susan era rimasta intrappolata in casa sua Susan a questo punto era disperata aveva iniziato a piangere pregando all'uomo di non ucciderla lui le era assaltate addosso aveva iniziato a tagliarle il vestito con delle forbici poi Susan aveva urlato se mi paghi non è violenza dirò che non è colpa tua che l'ho fatto per soldi e in effetti la tattica di Susan aveva funzionato l'uomo non le aveva tolto la vita bensì la aveva legata aveva fatto violenza su di lei poi la aveva portata in braccio in bagno per lavarla e infine con calma la aveva riportata a casa sua le aveva dato i 100 dollari e le aveva detto che il giorno dopo sarebbe tornato per pagarla ancora di più perché era stata proprio brava a distanza di 24 ore dall'aggressione Susan come giusto che sia continuava ad essere terrorizzata aveva passato la notte nell'appartamento di un'amica e la mattina dopo erano tornate insieme al suo appartamento ma aveva visto la jeep nera che l'aveva caricata il giorno prima davanti al suo vialetto il suo aggressore era lì ad aspettarla e come promesso era tornato anche il giorno seguente Susan a questo punto aveva contattato la polizia aveva spiegato tutto ciò che le era successo quindi era stata portata in ospedale dove le era stato tempestivamente eseguito un kit per le violenze intime quel kit viene analizzato in tempo record dalla scientifica e i risultati sono quelli che i detective aspettavano da più di due anni il DNA è sconosciuto ma coincide con quello degli omicidi di Cara Joe e di Nina Whitney Susan descrive la casa in cui ha subito violenza e i detective capiscono immediatamente che quella è la casa di un ex agente della polizia che conoscono molto bene ossia Jeffrey Morland ma c'è un problema il DNA che Jeffrey Morland ha fornito alla polizia non combacia il che significa o che è innocente o che il DNA che ha fornito non è il suo a questo punto i detective contattano sua moglie la quale dice che in effetti suo marito Jeffrey quel pomeriggio si era comportato in modo davvero strano poi senza darle spiegazioni ha semplicemente lasciato la città Jeffrey scappa in Iowa i detective di Harrisonville a questo punto si mettono in contatto con il dipartimento di polizia di Osiola gli spiegano la situazione e iniziano le ricerche partono cercando in tutti gli alberghi della zona intanto i detective di Harrisonville chiamano anche la moglie di Jeffrey che inizia anche lei a fare delle telefonate negli hotel della zona per dare una mano nelle ricerche e in effetti riesce a rintracciarlo si è registrato in un hotel a Des Moines con il nome di un suo ex collega i detective quindi si ricono in questo hotel e lo trovano inconsciente sul pavimento di una stanza questo vuol dire che ha provato a suicidarsi Jeffrey viene portato immediatamente in ospedale e lì viene stabilizzato a questo punto gli investigatori prelevano ufficialmente un campione di DNA da Jeffrey Morland e questa volta il DNA coincide sia con quello dei due omicidi che con quello della violenza questo significa che Jeffrey ha effettivamente passato un campione di DNA falso al suo ex partner appena viene dimesso dall'ospedale Jeffrey chiaramente viene arrestato e riportato ai missuri c'è un problema però l'uomo non parla mai con i detective non spiega mai perché l'ha fatto come l'ha fatto o perché avesse scelto Cara Joe Roberts e come l'avesse incontrata si sono dati effettivamente una spiegazione in assenza di un movente che Jeffrey ha espresso ma questo movente io lo trovo un po' travallante in pratica i detective dicono che Jeffrey è un maniaco del controllo e probabilmente quando il suo corpo ha iniziato a deteriorarsi per il Parkinson e ha smesso di essere un poliziotto si è sentito frustrato e arrabbiato e onestamente credo che tantissime persone nella loro vita si sentano frustrate o arrabbiate ma di certo non vanno in giro a commettere omicidi quindi c'è qualcosa che manca ma c'è qualcosa che noi non sappiamo è che solo Jeffrey sa solo Jeffrey può spiegare i motivi delle sue azioni e non l'ha mai spiegato Jeffrey a questo punto va a processo e l'accusa presenta ciò che pensa sia successo il giorno in cui Caraju è stata uccisa Jeffrey stava guidando e per puro caso aveva visto Caraju in giardino l'aveva trovata carina e quindi aveva deciso di compiere l'aggressione contro di lei nonostante vivesse nella zona Jeffrey non conosceva i Roberts al momento dell'omicidio probabilmente Jeffrey era capitato lì per caso l'aveva vista ed era scattato qualcosa dentro di lui qualcosa di terribile era riuscito ad entrare in casa probabilmente invitato da Caraju d'altro canto Jeffrey sapeva essere affabile e cordiale quando voleva probabilmente non ci aveva neanche messo molto a tranquillizzare Caraju sulle sue buone intenzioni una volta entrato in casa però Jeffrey si era rivelato per ciò che era quindi l'aveva legata le aveva messo del nastro adesivo sulla bocca e infine l'aveva portata in camera da letto per aggredirla poi le aveva messa nella vasca da bagno le aveva sparato e infine aveva fatto scorrere l'acqua dei rubinetti per riempire la vasca da bagno accusato di aver ucciso Caraju nel 2008 Nina Whitney nel 2010 e di aver fatto violenza su una terza vittima il primo processo a carico di Jeffrey Morland si concentra sull'omicidio di Caraju l'uomo viene condannato all'ergastolo e ad ulteriori 50 anni per aver utilizzato un'arma da fuoco per commettere il diritto oltre a scontare l'ergastolo più 50 anni Jeffrey resta in cella fino al processo per l'omicidio di Nina Whitney e quello per la violenza sulla terza vittima il 25 gennaio del 2020 Jeffrey si dichiara colpevole per l'omicidio di Nina Whitney venendo condannato ad ulteriori 20 anni manca ancora un ulteriore processo che probabilmente costerà un'ulteriore condanna Jeffrey quindi di una cosa siamo certi passerà il resto della sua vita in carcere qualsiasi sia il motivo per cui ha commesso quei delitti e quelle tremende aggressioni ciò che mi chiedo ora è possibile che ci siano state altre vittime Jeffrey Morland ora ha 62 anni quando è stato arrestato se non erro ne aveva 52 è difficile diventare serial a 52 anni così come è difficile iniziare a fare omicidi a questa età dobbiamo ricordarci che l'uomo è fuggito in Iowa a Des Moines e lì ha dei legami sarebbe interessante ad esempio indagare sull'omicidio di Hazel Rainman una donna di 87 anni che nel settembre del 2008 è stata ritrovata coltellata nel suo seminterrato e la porta d'ingresso anche in questo caso non presentava alcun segno di scasso questo un omicidio molto simile a quello di Nina Whitney questo caso lo ammetto inizialmente mi ha attirata perché i casi risolti a me attirano molto lo so che vi ho raccontato un caso concluso ma io inizialmente avevo digitato solo il nome della prima vittima come già vi ho detto all'inizio video ci ho messo un po' a trovare il collegamento con la seconda vittima e ci ho messo ancora un altro po' per trovare il collegamento con la terza vittima in ogni caso credo che a voi piacciono di più i casi risolti ma se non è così fatemelo sapere qui sotto nei commenti ho solo un'ultima cosa da dire non posso che essere dispiaciuta del fatto che ci sia voluta un'ulteriore terza vittima di violenza per arrivare al colpevole sono rimasta sbigottita quando ho scoperto che l'assassino era un ex poliziotto che per di più aveva fornito il campione di DNA di qualcun altro ma voi cosa ne pensate? conoscevate questo caso? fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.